Come attivare così DirectX 12 Ultimate? Ovviamente se non sai se lo tieni attivo o disabilitato, in questo caso puoi andare direttamente a scrivere qua sopra DXDIAG DXDIAG, esegui così il comando, aspetta un po' che si apre la schedina, la versione per la mia scheda grafica a 30 e 70, RTX, DirectX 12 qua Vai su schermo ed eccolo qua, DirectX 12 Ultimate attivato Ovviamente prima di questa 30 e 70 avevo una 1660 Super e mi diceva disabilitato, perché? Perché non supporta quel chipset grafico Questo driver, questa DirectX 12 Ultimate supporta solamente, come puoi vedere, per sfruttare al meglio DirectX 12 Ultimate è necessario un hardware recente La buona notizia è che la scheda video GeForce RTX 30 e quella 20 supportano questo DirectX 12 Ultimate Anche le schede grafiche AMD RX 6800 o 6900 XT Quindi in questo caso devi avere una scheda grafica tipo superiore a 20 RTX per usufruire di questo chipset, quindi di questo DirectX 12 Ultimate A me la 30 e 70 quando ho montato questa scheda e ho aggiornato i driver per la mia scheda grafica Nvidia si è attivato da solo automaticamente Quindi se tu lo tieni disabilitato e hai una scheda grafica tipo superiore alla serie 2000 e 3000 Possiamo andare direttamente sul programma DirectX Ed eccolo qua, Web Installer, DirectX and User Runtime Oppure semplicemente Old Driver Nvidia Scarichi gli ultimi driver per il tuo chipset grafico, proprio per la tua scheda video Se per esempio hai una scheda grafica tipo RTX serie 20, 2080 Ti o una 2070 Trova così il tuo driver grafico e comincia ad installarlo sul tuo computer Driver GeForce Game Ready Vedi, scarica e installa così questo driver E invece per Web Installer DirectX tu basta che scarichi questo Clicchi sopra Accetti così il contratto, fai avanti, togli questa spunta da qua, fai avanti e lo installi E basta Una volta fatto devi riavviare il computer Quindi ripeto, questo DirectX 12 Ultimate è solo per le schede grafiche RTX serie 2000, 3000 e superiore Per AMD stessa cosa, RX 1800 e basta Puoi anche dire come attivare DirectX 12 Ultimate e ti dice la stessa cosa Che non lo puoi attivare su schede grafiche come ti ho detto avevo una 1660 super e non potevo attivarla Quindi la mia scheda grafica non supportava questo chipset Basta Quindi in questo caso se hai problemi puoi commentare sotto al video E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao Ciao